43esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dell'acquario. La chiesa ricorda Santa Eulalia. L'onomastico. Oggi l'onomastico di Eulalia. Il nome ha origine greca e significa eloquente, che parla bene. È un nome desueto che però in Italia conobbe una certa popolarità nel dopoguerra grazie a una canzone del Quartetto Cetra del 1947, dal titolo Eulalia Torricelli da Forlì. Accadde oggi. Il 12 febbraio del 1737 viene inaugurato a Napoli il Teatro San Carlo. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 12 febbraio ricordiamo il regista Franco Zeffirelli e la cantante e produttrice Claudia Mori. La citazione del giorno. Il vero viaggio della scoperta non consiste nel cercare nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi. Marcel Proust. Dice il saggio. Il modo più facile per ottenere un prestito è dimostrare di non averne bisogno. Il bel paese. Se avete in progetto una visita ai Colli e Uganei, non potete non fare una tappa ad Arqua Petrarca, uno dei borghi più belli d'Italia che mantiene inalterato il proprio fascino antico. Il borgo deve la sua notorietà alla fama eterna di Francesco Petrarca, che qui trascorse gli ultimi anni della sua vita. E infatti la casa del poeta è la sua maggiore attrazione. Attualmente sono ancora conservati lo studiolo in cui morì il poeta, con sedie e libreria originali e una nicchia in cui è custodita la mummia della sua gatta. Grazie a tutti.